Favola di Esopo, il debitore di Atene. In Atene, un debitore, sollecitato dal creditore a rimborsargli il denaro dato gli in prestito, dapprima lo esortò a concedergli una dilazione, dicendo che si trovava in difficoltà finanziare. Ma poiché non riuscì a convincerlo, spingendo innanzi una scrofa, l'unica che aveva, la mise in vendita presente il creditore. Avvicinatosi un compratore e chiedendo se fosse prolifica, quello gli assicurò che non soltanto figliava, ma anche che lo faceva in modo straordinario. Infatti durante le feste Eleusin figliava femmine, durante le Panatene maschi. E siccome il compratore era rimasto meravigliato a tali parole, il creditore aggiunse, ma non ti devi meravigliare perché durante le Dionisie questa di figlia ha anche Capretti. La favola mostra che molte persone, per il proprio tornaconto, non estano neppure a testimoniare il falso con grossolane bugie. Ciao bimbi, ci vediamo alla prossima favola, ciao!